Si intitola Secuor, verbo latino che significa seguire il maestro, ed è un film che racconta e narra i luoghi padovani dell'occulto. È un film girato intanto da due ragazzi del nostro territorio, di Vighizzolo, due ragazzi che non fanno i registi di professione ma che fanno tutt'altro lavoro, uno fa l'operaio, eccetera. Io credo che sia un punto di vista estremamente interessante, fatto proprio da ragazzi del nostro territorio, rivolto altrettanto a ragazzi del nostro territorio, tanto più che anche gli attori sono tutti della zona, sono tutti non professionisti e quindi è uno spaccato interessantissimo che su YouTube sta avendo tantissimo successo, tantissimi visitatori, quindi è qualcosa che è veramente apprezzato. Tutti parlavano di queste messe nere, la presenza di sette sataniche, allora noi un po', anche noi prese la curiosità, abbiamo deciso di andare a vedere, prima noi e dopo con quello che raccogliamo possiamo scrivere una sceneggiatura per fare un film. Questa è partita così l'idea, più come una sorta di documentario che non un film. Poi, visto la curiosità e quello che è successo col primo film, sono diventati tre i film, tra i quali due, cioè li abbiamo già, il terzo faremo molto più avanti. Il film è una fiction delle sette sataniche, è un riepilogo, una continuazione anche del seguente lungomentraggio che abbiamo fatto nel 2009, loro, e narra praticamente le ritorsioni che hanno le vittime di queste sette sataniche. Chi ha testimoniato nel primo film subisce delle ritorsioni dalle sette sataniche. Abbiamo trovato i posti dove venivano realizzate le messe nere, le sette sataniche, siamo stati lì, abbiamo visto i segni che hanno lasciato e ci siamo stati anche impressionati da questa cosa. Ovviamente siamo andati non nei giorni in cui facevano queste messe nere.